musica va benissimo bello aia aia marcia mamma mia mamma mia ceeeee che cacchio incredibile ma che cacchio è uno scherzo incredibile quanti colpi gli ho sparato a quello e non veniva giù scherzo del testino eccoci e bentrovati sul nostro porco canale adesso cerchiamo ciao Gigi ma dov'è Gigi? ma come sarà Gigi? lo sento che cacchio incredibile campioni del mondo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti